Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Marco Nerozzi, conosciuto per essere l'ex marito di Delia Duran, attuale compagna di Alex Belli I due hanno vissuto un amore molto travagliato durato per ban 8 anni, infatti, non sono mancate le varie accuse nei diversi salotti televisivi, davanti a milioni di telespettatori La vita privata dell'uomo è sempre stata sotto i riflettori, soprattutto dopo le pesanti accuse che si sono rivolti reciprocamente In particolare, l'ex marito di Delia avrebbe aggredito la coppia . Ma lui Alive, non è la Dursa ha smentito totalmente le dichiarazioni della compagna di Alex Belli, rivelando anche che lei sarebbe manipolata dall'attore di Cento Vetrine Potrebbe interessarti anche, Soleil ed Elia condividono un altro uomo oltre ad Alex, lui è famosissimo Di Marco Nerozzi non sappiamo molto, dato che ha sempre cercato di tutelare al massimo la sua privacy, anche se è stato per molto tempo protagonista di diverse vicende di cronaca rosa Ora però, insieme alla sua ex moglie è finito di nuovo al centro dell'attenzione per un problema legale molto serio, scopriamo cosa è accaduto poco fa . Delia Durane e Marco Nerozzi. L'accusa di riciclaggio.La modella venezuelana insieme al suo ex marito, erano accusati di riciclaggio per aver nascosto ben 2 milioni di euro in un conto bancario di San Marino Un fatto accaduto durante la loro relazione, quindi nel 2010 fratto 2012 . Potrebbe interessarti anche, Alex Belli, per farsi perdonare da Delia ha speso una montagna di soldi, roba da pazzi Ma non è finita qui, perché l'accusa sarebbe molto più grave, dato che il denaro proverrebbe dalla prostituzione La sentenza è arrivata e Marco Nerozzi è stato condannato a 4 anni e 2 mesi e dovrà pagare 4 mila euro di multa, invece Delia Durane è stata assolta . Delia Durane.In molti si sono chiesti, che fine hanno fatto tutti quei soldi? Alcuni hanno pensato che se gli fosse presi tutti Delia ma non è così, perché il denaro è stato giustamente post sotto sequestro . Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere . Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità . Ci vediamo ai prossimi video. Addio